Rossella Fiammingo, hai passato qualche ora insieme alla tua medaglia di Argento, l'hai rivalutata, che sensazione hai? Sì, sì, sono contenta, adesso che ce lo do un po' il collo mi sto rendendo conto di quanto sia importante è stata una giornata molto molto divertente e molto emozionante non ci sono rimasta male obiettivamente per la finale, però adesso ci sto ripensando Rossella ha due medaglie irritate di seguito e adesso un Argento bellissimo si parla già di te a Tokyo, si guarda troppo avanti e forse è giusto che te la godi un pochino prima Sì, vabbè, è lunga, da qui a Tokyo ci sono quattro anni, quindi adesso nel mezzo ci sono tre mondiali vorrei metterne a scendere un altro, un altro oro mondiale e fare la tripletta perché loro ho potuto fare la tripletta con loro lì Cosa farai in questi giorni a Rio? Sarò in giro, andrò a vedere un po' di gare, starò soprattutto in spiaggia perché mi manca già il mare e poi domani andrò nel parrucchiere, poi lo so, costeggerò tutti i giorni, credo È arrivata anche in questo momento la medaglia di Detti, insomma, l'Italia comincia a carburare anche da questo punto di vista No, è stata contenta per Gabriele, comunque è da un po' di anni che è cresciuto e si meritava questa medaglia comunque è un brozzo che per il nuoto italiano vale oro A Catania c'è un po' di sale? Eh, non lo so, ora vediamo, ve lo dico quando torno, non lo so Non ho neanche il telefono attivo, quindi non ho potuto vedere i messaggi su internet Appena torno al villaggio ho già potuto capire un po' come è Catania Grazie